Buongiorno a tutti a vostro Cristian de Ares, eccoci tornati a un nuovo video dedicato questa volta a One Piece 3 Scuses versione giapponese. Allora ci ho messo un po' prima di fare questi pull perché praticamente sono 50 botta e ho dovuto finire praticamente le missioni di Chopper per riuscire a raggiungere a superare i 150 gemme quindi niente arrivo proprio in extremis perché alle 5 del mattino finisce il tutto quindi direi di provare a vedere se riesco a trovare tra i pull la simpatica boa anche premessa c'è anche questa versione di Nico Robin questa versione di Rebecca se non sbaglio, Viola, Karoth che è la versione Submarine, Vivi e niente buon Hancock. Sono riuscito a dire tutti i nomi io in genere mi confondo li sbaglio quasi sempre a sto giro invece non mi sono neanche allenato per studiarli quindi direi di fare questi tre lanci mi pare che al secondo ci sia uno dei poster garantito però non vorrei dire una cavolata poi eventualmente confermatemelo sotto nei commenti ma vedremo scoprimo solo ridendo. Primo primo pull con 50 gemme a disposizione a donare praticamente dai rap fammi trovare qualche leggenda fammi trovare delle leggende ok già una ah beh beh ah però lei non era nei poster vabbè comunque dai una pudinna in più se può ah però ah ce l'avevo già ah però no lui non ce l'avevo buono buono dai non ce l'ho non ce l'ho e mi serve mi serviva quindi buono buono sono contento mi serve per pirate festival mi serve per pirate festival l'ho trovato l'ho trovato che comunque sono soddisfazione ma direi ok direi di fare il secondo pull qua dovrebbe esserci uno dei poster garantiti dai rap e fammi trovare delle leggende per il momento zero non era buono non era buono che quella no infatti è verde vabbè sono uscite 300 mila versioni cos'è ah questa qua è viola questa è forte non si sa che non ce l'ho no no non ce l'ho attenzione questo ce l'ho questo ce l'ho vabbè dai quel che personaggio nuovo lo sto trovando non c'è male questo è vecchio ok abbiamo trovato navivi si sa che quella no no è viola quindi non è quella del poster gimbe attenzione leggenda terza leggenda big mom il dual con zeus e prometeo buono buono dai che non ce l'avevo gli ultimi pull sono riuscito a trovare big mom sia che nel global che nel giapponese da che non ne avevo neanche uno vediamo un attimo speriamo non è boa vabbè abbiamo trovato rebecca l'ultimo pull e poi ci salutiamo come potete vedere sono le 23 27 sono un po stanchino dai rap fammi trovare dai raffi fammi trovare delle leggende ok dai la quarta leggenda quinta leggenda attenzione ultimo non so se una leggenda garantita perché è trovato un'altra versione di vivi e poi a tutto pari ci avevo jimbal che ha votato anche che aveva un po questa leggenda cos'è a kaino o a kaino ha però non ce l'avevo ok a sto giorno non ce l'ho buono dai dico robin se se quella del poster si è quella del poster ma mi manca roba ecco che dai questo non so neanche chi è questa non so neanche chi è forse bevi attenzione beh confido nell'ultimo che magari potuto possa essere un lavoro che pensi una leggenda attenzione vediamo un po è una leggenda speriamo che sia buon cook che invece no e sanji judge che però va bene non avevo da nulla direi che con questo è tutto ho finito ho finito i lanci teoricamente cacchio con cinque gemme potevo fare il quarto pool però non c'è modo di riuscire a trovare nulla ragazzi spero che vi avesse piaciuto scusate sono fatta da ritardo però ahimè le gemme su quel che sono io non le compro e quindi ho dovuto penare un pochino per riuscire ad accumularle ahimè giapponese non fanno il primo pool a 30 a quanto pare adesso con la nuovo sugo feste lo stanno facendo però questo qua ero 150 gemme riuscire a accumularle è stato abbastanza difficile quindi noi ragazzi un saluto a tutti e bello e buon tempo su questa grazia ci vediamo al prossimo video e facciamo un like bello